guardate la copertina di questo libro di michele ainis il regno dell'uroboro vedete questo serpente di bronzo che si morde la coda quello è il mito di un serpente chiuso in se stesso potrei dire prigioniero di se stesso perché ainis l'ha messo in copertina perché lui parte da un assunto forte molto forte dice non siamo più liberi di pensare i nostri stessi pensieri ecco il problema crediamo di pensare ma in realtà ripetiamo come pappagalli i pensieri altrui e qui parte la sua analisi che è quella del funzionamento ormai potrei dire oppressivo comunque molto invadente della rete la rete la quale non ce lo dimentichiamo registra ogni nostro movimento ogni nostro passaggio facendo sembrare che le cose sono gratis in realtà non è così scrive ainis sappiamo o crediamo di sapere che navigare da uno smartphone o da un tablet non costa nulla non è vero paghiamo ogni chat ogni ricerca ogni consultazione online spogliandoci delle nostre informazioni personali il che avviene con il diabolico meccanismo dei cosiddetti cookies i quali per ricevere una app o per navigare dentro un sito bisogna accettare i cookie questi draucola elettronici che ci succhiano i dati personali per cui ogni mossa che noi facciamo in rete c'è qualcuno che la registra e ci guadagna sopra salvo poi andare a sfociare nella stessa politica la quale scrive sempre ainis profilando le inclinazioni politiche dell'utente si perviene a una democrazia automatizzata dove l'offerta politica corrisponde esattamente alla domanda o meglio viene calibrate in base all'aspettative dei singoli gruppi di elettori lui fa un esempio terribile dice digitate la parola calcio secondo dei dati acquisiti dalla rete o da quel fornitore due utenti diversi avranno due risposte diverse a seconda dei gusti che avranno in precedenza manifestato conclusione del nostro valente costituzionalista michele ainis consente la partecipazione ma talvolta a scapito della democrazia perché quest'ultima la democrazia ecco il punto che vi prego di tenere presente sinute di procedure di garanzie formali che mancano del tutto quando l'agorà si trasforma in tribunale come le plebi radunate al colosseo rispetto al gladiatore sconfitto amarissima analisi temo molto vicina alla realtà